Musica Musica Passa qua davanti, questo è quello che ti ha dato a mangiare. Vieni a salutare anche, salutare sempre, salve, 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 si, si te lo saluto, un tecnico, si, conoscere quella Ferrari? Lui parla? Ogni tanto. Luca Lappo, Lappo, Luca Lappo, Iatti, Lappo. Corbero di Montezemolo, come va? Come va? Come va? Ehi, come stai? Ti piace però, ti piace? Piace perché quando credo così non capisci niente, come me. Permesso, permesso, vieni. Lui è vero, ma scusa, ma non sei sicuro? Sono io, è vero. Sono io, sei tu? Oh, cordeo, cordeo di Montezemolo, come va a farla su di una drencia? Togliti dall'IRAP, devo abbassare l'imposto, mi spiace, salve. Bravo, bravo, hai fatto bene, you make very well. Is this your camera? Is this camera, la, la, si, c'è la camera, poi dopo la letto, sono stacco. Ciao, siete forti. Stacco, ciao, bravo. Ciao, ciao. La cosa di Fabio e ci pensi, Fabio, è una noga.